Allora mister un momento sulla gara primo e secondo tempo momento della gara abbiamo approcciato anche a mio avviso molto bene creando diverse situazioni per poter fare gol non siamo stati siamo stati poco lucidi sotto porta e abbiamo il primo tempo eravamo un po frenetici cercavamo a volte anche di esasperare la giocata e di forzarla soprattutto non dovevamo commettere questo errore però poi la squadra per la voglia di vincere la l'atteggiamento che ha avuto anche il secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di portare a casa i tre punti dispiace perché abbiamo fatto a mio avviso una buona gara peccato peccato perché volevamo come ho detto prima a tutti i costi ottenere tre punti non ci siamo riusciti però la prestazione a mio avviso la squadra i ragazzi hanno fatto tutto quello che c'era da fare hanno spinto tantissimo e a parte il risultato sono contento di quello che ho visto da parte i ragazzi assolutamente no poi non so a cosa si riferisce il passo indietro se ha il risultato oppure se pensiamo che il perugia possa vincere tutte le partite per me poi ognuno può pensare quello che vuole per me è sbagliato noi siamo una squadra forte che può fare e deve fare un grande campionato ma non pensare che tutte le partite siano facili la squadra ha lavorato benissimo tutta la settimana e rispetto alle altre partite abbiamo commesso qualche errore di troppo anche in fase di palleggio differenza ripeto delle altre partite però l'approccio assolutamente sono molto contento perché non abbiamo concesso niente poi quando trovi una squadra che ti aspetta 10 giocatori sottolinea palla e e non riesce a sbloccarla subito poi diventa tutto più difficile anzi queste partite spesso e volentieri li perdi pure cosa bisogna fare in queste partite quando non si viene a capo e le squadre si chiudono bisogna cercare di avere pazienza e cercare la soluzione cercare in base all'avversario come ti vengono come si difendono cercare di trovare una soluzione anche sulle palle inattive e dobbiamo cercare di trovare sempre una soluzione in base all'avversario per quello che per quello che concede anche l'avversario e quando trovi ripeto una squadra che difende tutti sottolinea palla e a mio avviso ne troveremo tantissime perché quando giochiano contro il Perugia soprattutto quando giochiamo in casa troveremo delle squadre che ti aspettano per ripartire e non è facile sbloccarlo noi dobbiamo essere bravi a cercare di sfruttare soprattutto le palle inattive che sono quelle che determinano alla fine l'incontro noi abbiamo avuto per primo tempo diverse situazioni possibilità di andare in vantaggio non ci siamo riusciti poi il secondo tempo diventa più il tempo passa più diventa tutto più difficile perché poi subendo ancora di più la frenesia la voglia la determinazione di poter portare a casa il risultato non ci dimentichiamo che era un derby i derby sono sempre partite particolari perché c'è la massima attenzione concentrazione soprattutto la tra virgolette la paura di non perdere e la voglia di vincerla ma oltre al risultato ripeto che sono ammareggiato come lo sono anche i giocatori ci tenevano a vincere sono contento di quello che hanno che ho visto da parte ragazzi siamo con mattia minesso un commento sulla partita sì allora abbiamo fatto un pareggio e ovviamente noi volevamo la vittoria penso che abbiamo comandato il gioco per tutta la durata della partita dispiace perché non siamo riusciti a trovare il gol nel primo tempo ma anche nel secondo purtroppo queste partite vanno sbloccate sennò poi si rischia di arrivare al novantesimo e non riuscire a vincere teniamo buona la prestazione ripartiamo da quella che cosa poteva fare il perugia di più per vincere questa partita diciamo che forse dovevamo essere un po più concreti negli ultimi 20 metri perché le occasioni le abbiamo anche avute solo che forse siamo stati poco cattivi sottoporta e questo ha portato a non riuscire a finalizzare la prima da titolare come ti senti sì rientravo dopo un infortunio muscolare fisicamente sto abbastanza bene ovviamente mi manca ancora forse il ritmo partita per i 90 minuti però sono rientrato mi sento bene sta procedendo tutto per il meglio